Comunicato stampa del Ministero della Sanità per spegnere la polemica, la preoccupazione, l'allarmismo sui casi di meningite. Cepo A, Cepo B, Cepo C, comunque i decessi rimangono intorno ai 600 casi ogni 4 anni. Anche a Teramo c'è stata una corsa al vaccino con l'ufficio di vaccinazione che è rimasto chiuso per eccesso di presenze. E' un argomento comunque delicato che va affrontato però con fonti ufficiali. Se i dati che ha fornito il Ministero sono dati che in qualche modo ricalcano una incidenza della meningite pari agli altri anni, io credo che si possa stare tranquilli. E' chiaro che poi ci sono altre fondi informative che invece gettano panico un po' nella città e questo nelle città e anche nell'intero paese. E questo ovviamente non va bene, non va bene così come quando è accaduto dello sversamento delle acque dalla nostra centrale. Cioè in queste cose ci vuole molta chiarezza, bisogna ascoltare le fonti ufficiali e a queste bisogna fare riferimento. Ci sono delle categorie che si possono e si devono vaccinare e quelle vanno vaccinate, ma questo lo si dovrebbe fare ogni anno. Comunque bisognerebbe farlo per tutte le malattie che possono avvantaggiarsi dalla vaccinazione. E' chiaro che poi quando queste notizie vengono divulgate in maniera sbagliata accade quello che è accaduto in Italia e che è accaduto a Teramo. Che ieri il centro vaccinazione ha dovuto chiudere perché le richieste erano troppe e la disponibilità dei vaccini era insufficiente. Quindi insomma io direi che bisogna attenersi alle fonti ufficiali del nostro paese. Che insomma hanno come dire l'obiettivo di tranquillizzare ma non tanto per tranquillizzare, per quello che direi, per quello che sono i dati reali su cui bisogna basarsi. Che poi in realtà la polemica è nata comunque sul famoso CEPOA che avrebbe origine africana e molti consigliano comunque i controlli sugli immigrati che arrivano da quella zona. Come va la profilassi dei nostri ospiti in questo momento? Allora questo è un altro aspetto. L'aspetto dell'immigrazione e l'aspetto diciamo di quello che accade, sta accadendo nel nostro paese è un altro discorso. Io credo che insomma il nostro governo deve trovare una soluzione perché questo sta diventando un problema. E' un problema, è un problema e lo vediamo in tante situazioni che accadono quotidianamente in tante città quando il numero delle persone ospitate sono nettamente superiori addirittura agli abitanti stessi di alcune città. Questo non va bene. Io dico che se c'è un'emergenza va affrontata, in questo caso c'è un'emergenza immigrati, c'è un'emergenza profughi, questa va affrontata in maniera diversa secondo me. Il governo credo che sia un po' troppo superficiale da questo punto di vista perché se ognuno dei comuni, così come ha fatto Teramo, fa il proprio lavoro, fa il proprio dovere e cioè ospita un numero giusto di profughi, io credo che non si verifichino quelle cose che stiamo vedendo nel nostro paese. Altro discorso è quelli che arrivano invece alla frontiera e che devono comunque essere sottoposti a dei controlli. Perché questo è sia per le persone che arrivano e anche per poi i cittadini che ospitano queste persone che devono stare tranquilli. Quindi credo che sia un discorso che riguarda tutti, riguarda anche gli stessi immigrati e gli stessi profughi che vengono nel nostro paese. Questo è un discorso a più ampio respiro e credo che su questo il nostro paese si debba ancora una volta interrogare.